quanto tempo riusciremo a restare primi soltanto il tempo c'è lo sopra dire ma vabbè non esagerare perché ovviamente non è questo il nostro obiettivo almeno per quest'anno poi usi vinciamo visto che la squadra sembra forte la stazione mostrata di bianchi bianchi non so come si chiama c'è così dovrei cambiare anche il nome vabbè comunque ci abbiamo il brescia brescia invece è salito è invece non sembra tanto forte a bianchi bianchi allora farei fare una partita a zapata per noi lo facciamo sempre subentrare olivera sta giocando veramente forte ma veramente tanto forte facciamo riposare anche un pochettino a danielino che sta giocando pure tanto secondo me è un po' coi terzini con ce lo portiamo un po coi terzini vabbè faccio giocare no facciamo a giocare del prato vai giochiamo così tanto ci hanno buttato la sfortuna su isaxo speriamo vediamo da un periodo molto molto buono quindi dobbiamo stare attenti a non farci pregare ma poi sapete quella cosa interessante che peccato madonna ragà fatto è tutto bene ha fatto tranne il tiro però che il movimento che ha fatto o stiamo giocando bene o c'è una bis un po egoista dario martin ma ci sta ci sta bella palla bella palla ah madonna volevo far segnare a isaxo per fargli fare l'altro golo ma madonna turam è una bestia eh sì uh fallo c'è niente la fa doveva segnare lui il capitano il capitano doveva segnare con questo ragazzo mamma mia ma da lì bene così da mi fa pure i trucchi bello è fatto pregato no 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 grande portiere andiamo che c'è turamma sembra tanta fretta di segnare vai turamma vai è buona questa eh vabbè raga personalmente credo che il Brescia sia sotto noi parecchio comunque ormai veramente sembra che non ce n'è per nessuno eh cioè guarda che bianchi te la dà staccati 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 oh bello bello è formidabile sto ragazzo eh sta diventando proprio fortissimo sta diventando tripletta se non mi sbaglio no che tripletta doppietta scusate un bel cross il cross penso l'abbia fatto qua penso di aver sbagliato io no che brutta palla che me bello oh e questa è tua con un po' di fortuna grande ma comunque il Brescia è è scarso mamma mia veramente tanto perché non c'ha un pensierido proprio eh non c'ha proprio un pensierido cioè zero spacchiato vi dico la verità facciamo una bella cosa guarda eh allora metto Bernabè eh di qua facciamo entrare anche eh Olivera sinceramente Badurina lo metto al posto di eh Durano così lo facciamo anche un pochettino riposare e infatti la fase difensiva avversaria non riesce a prendere in area per attenzione vabbè meno male sessantesimo i campi li abbiamo fatti bene così allora io non vi fate male non vi fate male cioè stiamo 4 a 0 eh vabbè dai ci sta bellissimo grande no perché eccolo che va eccolo che va è uscito è uscito parecchio occhio sì ovviamente è brutto sto 4 a 2 è brutto proprio siamo calati veramente tanto però vabbù dai non fa niente diciamo che ci siamo un pochettino rilassati e riposati e non ci dovrebbe stare però ci sta e continuiamo a tenere sempre attenzione alta eh l'offerta parola nazionale eh no proprio Messico cioè con tutto rispetto ma abbiamo già parecchi impegni che mi mettono in in ci abbiamo un Napoli ok questa forse è una partita seria che andiamo ad affrontare per cui direi di giocare con tutti i titolari eh Zagarinis sinceramente lo andiamo a togliere e ci facciamo giocare a Demetrius che è bravo e gioca bene il Corona Schampeter è meglio che ti stai a casa per questa partita e basta io giocherei così ah 100 partite abbiamo fatto ok uuuu oh mamma mia Gandeneuer primo palo la era goal ma quando giocano così diventa difficile riuscire a prenderli cioè vabbè dai una 0 cioè guarda qui quando giocavo questa non è prima però no 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 dai non gliela dai sta caccia occhio eh no ok vai e vai oh a Zerbini però mamma mia cioè io capisco che la tua ex squadra però figlio mio stai dormendo bravissimo che peccato del prato che non l'hai lei di presa perché era buona vai 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 credi vabbè ma è sempre lo stesso noi i passaggi io i passaggi di prima non li posso fare spesso perché vediamo se è buona non era male però non era male non era male no vabbè oh come va di in frema quando mi ha il giocatore di sotto sbagliato vabbè con chi ha ma andiamo andiamo Zerbin no che schifo di colpo di testa guarda lì presa no ma voi però non si può sempre quello allo stesso modo cioè quindi palleggiano la sotto così e pigliamo il gol così vabbè non mi piacciono queste cose Guberto si vede a volte la differenza mannaccia eh sì io penso che lo possiamo fare vai vai una ah perché si è fermato ma non capisco perché si è fermato quello niente niente ma Badrina di solito c'ha un piede buono non segnalo c'ha un piede buono ma vado a vista che pressing mamma mia grande Olivera grande vedi 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 10 minuti non ce la facciamo ma ci proviamo non c'è niente da fare noi purtroppo se se riusciamo se riesco a entrare per via centrale segno via laterale è sempre troppo difficile speriamo di riuscire almeno a fare un'altra azione ma che chi ah vabbè questa mi è sembrata vabbè andiamo andiamo ce la puoi fare mamma che schiatto no che pecchiato che pecchiato che pecchiato che pecchiato chat che è successo ragazzi mi hai fatto giocare sono rimasto deluso mi aspettavo di più da te figlio mio mi aspetto di più da te perché stai giocando malino secondo me allora secondo mensile squadra primavera vabbè molti li abbiamo scartati forse secondo me le scarteremo anche degli altri più avanti allora giocatori impegnati abbiamo aggiornamento occhieri da da cbu e notite appunto filippo franco mi piace il nome filippo franco 725 questo potrebbe non essere male 17 anni non mi piace sergio guerra bello sergio guerra me lo prendo mi piace anche il nome a 17 anni no 575 no allora rifiuto 17 vitale madonna santa vitale roberto mancini 17 anni no allora prendo a filippo franco e sergio guerra scodifica scontata di chi a zero sottraversato un po' di forma vabbè ci penserò lo faccio il culibari è simpatico vogliamo vedere chi sono sti sti ragazzini che effettivamente abbiamo allora filippo franco ci serve come ci serve 71 magari forse sarebbe meglio se diventasse un terzino destro quanto allora quanto è 85 fisico ce l'ha equilibrato fili destro abbiamo di crescita vediamo un pochettino quanto ci mette vabbò troppo tempo cioè 30 settimane no allora è veramente un difensore centrale tutto uguale quindi accelerazione io gli farei migliore l'intenzione di pesa 4 settimane però è ancora prestino secondo me mentre mi seguo all'esterno quindi 54 però vabbè dai lo faccio orientare esterno destro quindi alla destra terzino terzino troppo esattiva 76 allora è più un a cc 54 cc non ce l'abbiamo un cc cc proprio a tiro 46 ha la testa due settimane sempre in tiro va 65 faccio diventare un cc dai magari lo portiamo al posto di quell'altro c'ha 15 anni è meglio no sicuramente c'ha più prospettiva secondo me allora ci abbiamo la Lazio ma nel frattempo che abbiamo fatto in castiglio e che lo abbiamo perso siamo intimi siamo quarti cioè per di una ah perché ancora dobbiamo giocare e che c'è per di una partita si sprofondano allora io metto culibali che c'è chiesto di giocare se no dopo si offende e chi lo vuole sentire è quello bamba e meglio di no sì ok russi già 80 reggendi chiellini già 80 grande io farei giocare anche arriverà pure segnato dai spieghiamo così dai 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 Olivera pure segnato ha sem mangiato un go start osferico però pure segnato Zerbin Zerbin sto ragazzo è forte guarda guarda lì come si è messo guarda guardalo stacca guarda 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 no occhio uuuuh bene guarda che c'è noia comunque la coppa la facciamo fare a buffon occhio bello 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 no oh picchiamo sempre sul calcio d'angolo così incredibile ok vai Dario vai Dario no questo bastardo ha fatto e che fai Coulibaly occhio penso che fosse deviato il tiro sì penso che forse deviato se non me l'ha deviato non lo fermi a Coulibaly oh conclusione che è terminata in rete grazie a una deviazione aia aia c'è la possibilità per il vantaggio bravo il portiere no dai dai è fuori gioco no oh questo segna sempre a noi stavo vincendo 1 a 0 dai mi hanno deparata poi sta solo sta solo sta solo dai mi dai a quell'altro mi dai sembrava che sembrava che e poi ci siamo completamente persi comunque gli stanno regalando un sacco di falli ma non le prendevamo tutte quante di testa ma non le prendiamo più di testa prima le prendiamo tutte quante anche ora se la perdi ti ammazzo oh andiamo forza dai quando il capitano segna dai vecchi tempi 3-3 recuperiamo recuperiamo intera fare quando riesce a fare un gol di prima comunque il primo palo grande ok buona bello grande grande Dario Dario Martin sapete che ha voto l'impressione che mi giochi meglio da da centrale dai 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 non perdiamo così me nemmeno male grande eh tu la dovevo dare ho sbagliato ho sbagliato grande 80 80 dai per via centrale ce la possiamo ancora fare ok buona grande quelli bali oh no che peccato che peccato ragazzi si è incartato con quella pala non ha indarrato tre passaggi ha fatto il terzo l'ha fatto giusto ha un giocatore a un metro di distanza secondo me c'è il rammarico per questa partita non per tanto per chi la stava vincendo 1-0 ma perché secondo me alla fine qualcosa la potevamo fare dunque giochiamo contro la Lazio cioè non voglio esagerare perché comunque il nostro lo stiamo facendo quest'anno punterei all'Europa poi grazie per avermi dato ascolto questa azione ha giocato bene 69 ha giocato bene poi naturalmente poi vedremo all'atto pratico come andrà a finire però siamo ancora in Europa ci vediamo sempre subito vai ciao ciao Grazie a tutti